L'oratorio Murialdo è un oratorio storicamente presente nel territorio del Giambellino Lorenteggio e ha sempre collaborato con tutte le associazioni e gli enti del territorio. Lavoriamo con il progetto QB di Fondazione Cariplo sulle povertà minorili. Lavoriamo con Media Friends che ci propone laboratori gratuiti di rugby e di musica. Al nostro interno abbiamo un centro di urno che si chiama Passepartout e che fa parte della decooperativa azione solidale con il quale da anni portiamo avanti le attività del tempo libero e dell'accompagnamento scolastico per i ragazzi delle medie e delle superiori. La collaborazione diretta con Sport Senza Frontiere è nata in contemporanea alla nascita della nostra associazione sportiva Sporting Murialdo che è il braccio sportivo ed educativo del nostro oratorio. Abbiamo iniziato questa collaborazione con tre famiglie che Sport Senza Frontiere con le sue educatrici ci ha presentato e che hanno iniziato con noi l'esperienza sportiva del calcio. Ora siamo a 11 anche sugli altri sport, 11 bambini e quindi i relativi nuclei vengono presi in carico praticamente in tutte le sfaccettature dei loro bisogni. Il fatto che Sport Senza Frontiere ci abbia proposto dei laboratori sulle emozioni, sull'alimentazione, sul mondo digitale è importante perché ci permette di dare ai ragazzi delle opportunità sia a livello di conoscere se stessi e gli altri sia a livello di sperimentare delle cose nuove, in questo momento in cui è così importante che loro abbiano consapevolezza di quello che vanno vivendo tutti i giorni in questo mondo così complesso. L'ottica è quella di poter dare a tutti un'opportunità. Il nostro fondatore San Leonardo Murialdo è un santo dell'Ottocento che ha sempre lavorato con i giovani e specialmente i più poveri. Per noi questo vuol dire poter far vivere ai ragazzi che incontriamo un'opportunità sportiva perché riteniamo che il calcio come la pallavolo e il basket o anche la ginnastica fatta insieme abbia un valore educativo imprescindibile.